Cosca perché avete deciso di puntare e di credere in questa realtà pallavolistica cunese al femminile che si appresta a fare la 1? Perché abbiamo valori comuni, valori molto importanti, quale il gioco di squadra, il fair play, l'etica, le regole e questi valori ci accomunano e ci appassionano. La passione è anche un altro di questi punti che sono fondamentali sia per noi che per la squadra. Ha detto durante il suo intervento che vi auguro un campionato spumeggiante. Questa è sicuramente una battuta carina e opportuna. La vita deve essere spumeggiante e noi siamo orgogliosi di portare bollicine in giro in tutto il mondo dal 1831, da sei generazioni, a rallegrare le tavole di tutte le persone nel mondo. Quindi per noi tutto deve essere spumeggiante. Sarà il palazzetto anche? Speriamo! Lo auguro davvero! Grazie! Grazie a lei!